Musica 2500 anni fa Ippocrata ci aveva già detto che il cibo poteva essere la tua medicina, cioè la prevenzione e mantenimento di uno stato di salute che nella gran parte dei bambini parte dalla nascita e poi dopo crea nel tempo, può restare in salute se l'ambiente è favorevole se no ci sono delle patologie più o meno importanti. E poi diceva anche attenzione se ti ammali usa prima il cibo invece di rivolgerti ai famini. Questa cosa qua non è stata molto capita perché se noi ci basiamo solo sull'aspettativa di vita sembra che vedete questa curva in salita, sembra che tutto vada bene, ogni anno sta salendo quindi siamo sugli 80 anni per le femmine e un po' meno per i maschi, ma in realtà vedete che le cose non sono così tranquille perché la qualità della vita negli ultimi anni, quindi non la durata della vita ma la qualità, dal 2003 è crollata perché probabilmente sono arrivati dei soggetti in sovrappeso che avevano cominciato a mangiare male dopo la guerra, quindi diminuzione dell'allattamento al seno, un divezzamento sconsiderato, carichi di proteine, cibi 3-4 volte fa bisogno di proteine di un bambino e poi devastazione del gusto e quindi un'alimentazione sconsiderata per il resto della vita e io penso proprio che questi ex bambini siano questi, per cui si ammalano, diabete, problemi cardiovascolari, ahimè tumori, eccetera e quindi hanno una qualità di vita assolutamente compromessa. i maschi è la stessa cosa, quindi vedete che non è un problema di genere ma di ambiente. Questo per esempio è una diapositiva di una ASL del Bellunese, una ASL di Arezzo recentemente ci hanno detto la stessa cosa, cioè i tumori maligni sono in continuo aumento, è una cosa, una strage, una cosa allucinante. Ecco, a partire poi dal 2007, vedete. Ma quello che è importante purtroppo è la segnalazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che nel 2010 il direttore generale Margherita Chan ha detto che l'attuale generazione dei bambini se non succederà qualcosa, quindi un cambiamento di stile di vita morirà, cioè non avrà una durata di vita inferiore a quella dei propri genitori per la prima volta nella storia dell'uomo. Questo è veramente allucinante. Ma ci sono le spiegazioni, no? Si vedono, si vedono, si vedono. Sono bambini che sono obesi, mangiano male, si muovono poco, sempre attaccati alla televisione, diciamo, aggressivi, qualche volta ipercinetici quando sono piccolini, ma per una questione di mente, diciamo, non di sanati, di tapotori. Ecco, e queste sono le malattie che colpiscono i bambini oggi. Vedete, una volta erano malattie che colpivano l'adulto. Al massimo si diceva, eh, traggono le radici nell'età pediatrica. Altro che radici, si ammalano. L'unica cosa che non gli è ancora arrivata, bambini e adolescenti, sono le uniche malattie, sono quelle recentissime anche per l'adulto, la demenza senile, l'Alzheimer e i Parkinson. Ma perché non succede tutto questo, bambini? Perché non c'è un collegamento fra alimentazione e malattia. Non c'è nei medici, quindi figuriamoci nelle persone. Non si fa educazione all'alimentazione. Dovrebbe essere fatta educazione a una corretta alimentazione dove? Qual è il posto migliore? La scuola. Formazione curricolare, cioè con valutazione. 40 ore di lezione dall'insegnante opportunamente formata, eccetera, eccetera, su questi bambini. Funziona? Abbiamo fatto un esperimento qualche anno fa su scuole di Padova e di Verona, dove lavoravo, e ha funzionato. Bambini in quinta elementare, già dalla quarta elementare, tutti gli anni, 40 ore, dicevano ai genitori, no, questo non va bene. A scuola ci hanno detto questo perché, perché, perché. Perché in sei anni di medicina fanno 15 ore di nutrizione in sei anni. Quando ero a Verona, insegnavo nutrizione in pediatria per 20 anni, avevo sei ore, più altri tre docenti, e arrivavamo a 15-18. Guai a toccare il posto delle ore sulla patologia. Quindi si insegna nelle scuole di medicina a curare l'uomo bambino e l'uomo malato. E chi lo cura? Il sano. Chi si occupa del sano? Nessuno. Nessuno. Il sano è nelle mani degli messaggi, diciamo, distorti, dei mass media, eccetera. Che rapporto c'è fra alimentazione e malattia? È evidente perché vediamo che ci sono delle, ci sono quattro volte i consumi di proteine di origine animale, 32% dei tumori sono legati all'alimentazione e sempre al consumo di alimenti di origine animale, lo stesso l'obesità e il diabete, lo stesso con troppo latte e derivati, con problemi di tumori e di osteoporosi, addirittura, attenzione, questa è una roba, dopo lo vedremo, ma insomma, troppo formaggio determina perdita di calcio. E poi, vabbè, Parkinson, Alzheimer, tutti correlati a questo tipo di alimentazione. Ma se io mangio meglio, faccio un'alimentazione più sana e si tratta solo di ritornare indietro di 70 anni, la vera dieta mediterranea, ecco, che le cose vanno a posto. Allora potrebbero essere i 30-40% evitati, 17-22% dei tumori, 17-22% delle malattie coronariche, diabete, addirittura nel 66%, il diabete tipo 2 dell'adulto potrebbe essere assolutamente evitato. Se uno è attivo e resta velo magro, ha il gene a rischio, ma non fa diabete. Se aumenta di peso, mangia male ed è sedentario, lo fa. Ecco, quindi la carne, i latticini e le uova sono le fonti della maggior parte dei grassi, grassi animali, che sono il veleno, uno dei tanti veleni forse il più importante. Quindi si può trovare una soluzione. Non è che queste malattie vengono di chissà da dove, vengono da un ambiente e quindi da un'alimentazione che non è più quella di una volta. Non è un'alimentazione patologica. Allora ecco la dieta mediterranea tutta domesticata. Ogni tanto compare una piramide mediterranea e tutti ci mettono qualcosa. Ma non è vero, ce n'è una di piramide, ma recentemente hanno presentato i LARN, i livelli di assunzione dei raccomandati per la popolazione italiana, a Bologna, la società italiana di nutrizione umana, e anche lì hanno ritoccato qualcosa. Per esempio i grassi totali sono stati portati come in America, non più al 30% totali, ma al 35%. È come quando c'è l'inquinamento di qualcosa. Cosa si fa? Si alza l'asticella. Che problema c'è? La piramide mediterranea, vedete, è una piramide, la conoscete, ma insomma, le carni qualche volta al mese. Qualche volta al mese. Quindi la base sono gli alimenti vegetali, quindi i cereali integrali, la frutta è la verdura, l'olio, i legumi e via. Ecco, tutto il resto è qualche volta alla settimana e qualche volta al mese. Invece c'è chi mangia la carne due volte al giorno e via. Questa è la piramide vegetariana. Praticamente ci sono i cereali integrali, 6-11 porzioni al giorno, la frutta 2 o più porzioni al giorno, le verdure 3 o più porzioni al giorno, i legumi 2 o 3 porzioni. Questi sostituiscono le carni e i formaggi, egregiamente, i legumi, eccetera. Poi il latte di soia fortificato. La soia sarà l'alimento del futuro. Soia per uomini, per esseri umani, quindi non OGM, mentre quella per gli animali è OGM. Quindi chi mangia la carne si piglia gli OGM della soia. Quindi la soia invece è un alimento molto importante, soprattutto nella donna, per la prevenzione del tumore al seno e via. Quindi gravidanza, soia alla madre e poi la nascitura o nascitura, gravidanza in tutta la vita, o legumi classici noti, ma anche la soia, perché è molto più ricca di fitoestrogeni. E poi, vabbè, gli Omega 3 in alto, che possono essere derivati benissimo, per esempio, dai semi di lino. Che cosa dicono le società scientifiche sull'alimentazione del bambino? L'American Academy of Pediatrics, la più importante accademia di pediatria del mondo, dal 77 dice che i bambini hanno una dieta simile a quella della carne, amminoacidi apportati dalla carne. Ma anche i vegani, ma anche i pure vegetarian, cioè i vegani, possono essere nutriti bene se loro hanno una formazione, se sono seguiti da qualcuno che gli dice come combinare, per esempio, le proteine, come usare molto la vitamina C, cioè usare limone, succo d'arancia, prezzemolo, peperoni, perché fonti di vitamina di che consentono un assorbimento ottimale del ferro vegetale e dello zinco negli alimenti vegetali. Quindi, se sono guidati e pianificati, non ci sono problemi. Questo nel 77. Nel 2009, la Società Americana di Dietetica ha detto una cosa molto importante, che le diete vegetariane ben pianificate, anche vegane, sono sicure, se ben pianificate, ovviamente per tutti gli stadi della vita. La gravidanza e l'allattamento, la prima e la seconda infanzia, l'adolescente, l'adulto e, oi boh, anche gli atleti. Ma, oltre che scegliere gli alimenti, i macronutrienti, bisogna stare attenti anche a evitare i veleni nei cibi. E ce ne sono. L'agricoltura intensiva non è più affidabile. Nei supermercati ci propinano cose che adesso vedremo. E chi è il più, diciamo, il più a rischio? Il bambino. Allora, intanto, nei prodotti di agricoltura intensiva c'è un effetto diluizione, perché si spinge la pianta a crescere rapidamente, tira su acqua, i terreni non vengono ruotati, per cui sono impoveriti i nutrienti, quindi noi mangiamo degli alimenti che sono diluiti. Quindi, ah, dice, ma non hanno più il sapore di una volta. E ci credo. Ci sono meno nutrienti e più acqua. Vabbè, poi non viene usato pesticidi in questi prodotti. Adesso li chiamano fitofarmaci, perché pesticida dava fastidio, l'hanno ingentilito, ma insomma il veleno è sempre lo stesso. Ecco, la cosa più importante è che, per esempio, appunto in questi alimenti biologici c'è una maggiore quantità di sostanze positive, che sono gli antiossidanti, che sono i nostri più grandi alleati, che si prendono dalle piante che sono situate soprattutto nella parte interna, perché l'antiossidante difende della pianta, dall'aggressione degli insetti. Quindi, nell'agricoltura biologica, i prodotti dell'agricoltura biologica ce ne sono molti di più. Il bambino è più a rischio se non prende alimenti dell'agricoltura biologica, perché ha una massa corporea, metà di quella dell'adulto, ma alla fine mangia quasi una quantità di nutrienti assolutamente similare. Quindi vanno a accumularsi molto di più nel bambino che nell'adulto. Nell'adulto, pesando di più, questi veleni sono diluiti. Quindi il bambino è ancora più a rischio. Hanno fatto uno sperimento sull'Università di Siena su queste cose. Hanno preso dei bambini e hanno dosato i pesticidi nelle urine. Il 98% dei bambini aveva un pesticida, il 48% non aveva 4. Sono bastati 5 pasti biologici perché il valore di questi pesticidi nell'arco di 15 giorni si è dimezzato. Quindi si può eliminarli dal nostro corpo. L'ISPRA non è una società di ambientalisti, è l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale, quindi nella nostra Repubblica. La frutta non biologica può essere sottoposta fino a 29 trattamenti con pesticidi ed altre sostanze. Eccolo qua il dato. Vedete? questo è l'European Food Safety Agency, l'agenzia europea per la sicurezza alimentare che ha sede a Parma, che dal 1097 in poi ha registrato quanti pesticidi venivano usati per singola pianta. Allora, 8. E qui siamo arrivati, nel 2005 c'è stato il botto di 29. Però è stabile, poi è calata al 22. E il direttore della col di reti che avevo accanto, quando ho denunciato questa cosa, ha detto no, assolutamente, tutto sicuro. Sapete cosa fanno? Mettono quantità di pesticidi, le regolano in modo tale che il singolo pesticida non supera l'asticella che hanno messo loro. Però sono 26, voglio dire, questo qui non l'hanno mai voluto studiare, l'effetto di sincronia letale di questi veleni. Ci stanno lavorando degli stati nord europei, che sono un po' molto più seri di noi, per vedere se si riesce a fare questo tipo di valutazione e quindi ridurre questa cosa assolutamente folle. Ecco, e guardate, è semplice, sapete chi è questo grattacielo qua? Sono i fungicidi dove? In Trentino Alto Adige. Quindi i dati ci sono e quindi insomma bisogna fare un po' attenzione. Ecco, vabbè, qui tutti i lavori dicono che se uno in gravidanza viene esposto ai pesticidi poi ha problemi. Sono bambini che sono lesionati a livello neuronale durante la gravidanza. Allora, lo yoga, quindi 2-3 mila anni fa diceva, gli oggi dicevano che l'alimentazione deve essere pura, deve essere sattica. E come ci si arriva? O ci si arriva partendo subito, selezionando questi alimenti, oppure si può fare degli errori, fare un percorso, che è quello che tutti noi possiamo fare. L'importante è che da stasera tornate a casa e cominciare a fare dei passettini, cioè andare a vedere se c'è qualche negozio biologico, qualche mercato biologico, qualche gruppo d'acquisto solidale, andare a comprare la vecchia mela un po' battuta, un po' beccata, magari c'è il vermetto dentro, ma se c'è il verme vuol dire, i vermi sono mica stupidi, i vermi vanno a finire la roba sicura, non si mangiano i pesticidi. Quindi ritornare a questo tipo d'alimentazione. Quindi, però, diciamo, gli yogi già dicevano questo, l'alimentazione deve essere pura, ricca di prana. Mi è venuto in mente, io faccio yoga, ho fatto una tesi su questo, quindi ho avvicinato il concetto dell'alimentazione alla comunione della nostra religione. Cioè, bisogna essere l'avvicinamento a Dio, quindi deve essere un momento particolare e soprattutto ci deve essere la purezza, la purezza quando si prepara il cibo, quando lo si consuma e soprattutto il cibo. Ecco, perché? Perché? Perché questo influisce non solo sul corpo, ma sono alimenti che praticamente influiscono sulla nostra mente, vedete? Il controllo sul pensiero, sulle emozioni, c'è una relazione stretta con il cibo, quindi ci stiamo avvicinando al tema. Quali sono i suggerimenti della dieta sattica? Poi c'è il tamasico, che è quella peggiore, la pesante, e il ragiasico, che è una via di mezzo. Allora, la frutta fresca biologica, ecco, quindi i latticini freschi, loro usavano lo yogurt, eccetera, però piccole quantità perché la mucca ha il vitello, non è come da noi che gli tolgono il vitello, le seleziono, gli fanno fare 60 litri di latte di più, anche 80 litri di latte al giorno, se scendono di produzione le mandano al macello. Ecco, poi i noci, le semi olaginose, noci fresche, ortaggi biologici, cereali integrali, legumi dolcificanti, ma è il miele, ora quanto miele c'era? Adesso nei supermercati ne troviamo a volontà e anche lì. Proteine supplementari, erbe sabbie, perché facendo riferimento alle zone di montagna, sia in India che in in Tibet ovviamente il grasso era molto importante per tollerare una temperatura, eccetera, eccetera, per cui su un po' di carne era, diciamo, non indispensabile nelle altre aree, ma in quelle aree si lascia in inverno, pieno inverno, anche perché in Tibet non c'è niente, c'è un po' d'orzo e basta. E quindi, ecco, quindi, e le erbe, le erbe, le erbe, queste erbe fantastiche che lavorano molto sul corpo ma anche sulla mente. Allora, parliamo di effetto dimostrabile, le onde cerebrali, guardate le onde alfa, le onde alfa sono quelle che si attivano durante la concentrazione profonda e la meditazione. I monaci in tre minuti entrano in concentrazione in meditazione e le hanno registrate all'MIT, elettroencefalograficamente, e compaiono queste onde alfa che sono molto regolari, sincronizzate, cioè la quiete del cervello. Quattro, diciamo, venti minuti, mezz'ora di concentrazione profonda è come se uno dormisse quattro ore, ecco, è molto molto importante, la quiete, la serenità, eccetera. Poi, vabbè, quelle sono le altre, le onde gamma sono quelle degli stati di tensione, eccetera. L'alimentazione vegetariana ha questo vantaggio, cioè induce la frequenza di onde cerebrali alfa, e quindi quelle della meditazione, questo consente di entrare nel nostro profondo, propria natura nel sé, diciamo, quindi si riesce ad avvicinarsi più al divino, più tranquillamente, non essendo disturbato dalla mente, dai pensieri che affollano il soggetto che non riesce, che non è esercitato a concentrarsi. Quindi viene attivata l'empatia, e quindi la socievolezza nei confronti. Sono persone più buone. Vediamo, gli indiani, gli indiani sono buoni, tranne quando li attaccano i cinesi, si arrabbiano un po', eccetera. Ma sono gente pacifica, assolutamente, perché 500 milioni di loro sono assolutamente vegetariani. Poi con il sviluppo moderno, ahimene, nelle grandi città, insomma, stanno mangiando di tutto, la carne di nascosto. Ecco, allora, andiamo a vedere perché. Il nostro cervello, che è il centro di comando dell'organismo, consuma da 4 a 6 grammi di glucosio ogni ora. E solo quello, proprio lui è un buon gustario, si prende solo questo carburante. Poi può usare anche altre cose, ma quello è... Se gli viene a mancare, succede il patatracche. Quindi, se io mangio più alimenti animali e non vegetali, posso avere una diminuzione dell'apporto di glucosio e quindi il cervello manda dei segnali e quindi l'organismo è costretto a trasformare il muscolo, con l'aiuto dell'energia del grasso, in glucosio. Quindi è un discorso di assoluta, diciamo, di problematica. Quindi è un aggravio metabolico. Ecco, in natura, ovviamente, in particolare nella frutta fresca c'è il glucosio. Quindi lo prendiamo da quello. Specialmente se si prende, non in grosse quantità in un solo pasto, ma piccoli, ai 5 pasti, bisogna mangiare 5 volte al giorno. E la frutta deve essere presente nei 3 di questi pasti, cioè la colazione al mattino e negli spuntini, non dopo i pasti principali. Questo vuol dire apportare zuccheri graduali durante la giornata. Questo è importante. Che cosa succede? In questi amidi ricchi di fibre, eccetera, c'è un aminoacido triptofano, c'è anche nella carne, ma c'è una strada metabolica diversa, il quale è il precursore di un neurotrasmettitore come la serotonina, che dà serenità, tolleranza, creatività, socievolezza, superimento degli stati d'ansia, di depressione, quindi grandi vantaggi per la mente. Ecco qua, vedete il triptofano, la via metabolica, da prima si trasforma in 5 dossi di triptofano e poi in serotonina, con tutti i vantaggi che sono sull'umore, ma anche sull'appetito, sulla sessualità, dice che fa tanto bene. Infatti, guarda caso, c'era un lavoro venuto fuori che i vegetariani hanno un'attività sessuale molto più soddisfacente, il termine che usavano era questo. Invece, la via triptofano presente nella carne ha un'altra strada, aumenta, come tutti gli altri alimenti proteici, quindi provoca la diminuzione della serotonina, aumentando la tirosina, quindi dalla tirosina viene fuori la dopamina, dopamina, doping, quindi tenetene a mente questo, e l'adrenalina, ormone della paura, no? Quando c'è uno stress, questo ormone prepara l'organismo ad essere molto reattivo, però aggressività, angoscia, agitazione, propensione alla lotta. Ecco, una parentesi sull'animale. L'animale, non sono stupidi gli animali, ci sono animali intelligentissimi, il maiale sembra essere quello più intelligente di lui. Questo sente un giorno prima che sta per morire. Quindi il sistema dopaminergio ce l'hanno anche loro, quindi pensate che razza di stress. Quindi quando vanno al macello poi hanno la conferma e quindi hanno delle carni impregnate di sostanze che sono eccitanti. Tant'è vero che, ecco, gli islamici hanno un sistema di macellazione particolare, cioè il taglio di vene con la lama affilata, il taglio di vene e di arterie per dissanguare l'animale dopo che praticamente è stato ucciso, oppure viene ucciso direttamente così. È una cosa barbara, ma per dimostrarvi quanto è importante questo concetto della presenza di queste sostanze nel sangue, quindi nelle carni che poi vengono mangiate. Quindi, altra cosa importante, ci sono degli studi fatti nei carceri statunitensi. C'erano delle carceri, c'erano sempre rivolte, mangiavano carne, hanno deciso di dargli una dieta vegana. Che cosa è successo? Hanno ottenuto dei risultati importanti, cioè le rivolte piano piano si sono acquietate e poi si sono assolutamente sparite. Quindi questa è la dimostrazione che una dieta che comporta sostanze che danno serenità risolve i problemi anche dove i problemi sono di casa, come quello di un carcere dove la rieducazione lascia un po' a desiderare. Ecco, quindi poi c'è il calcio anche. Un'altra cosa importante, l'abbiamo detto prima, gli alimenti di origini animali hanno proteine acide e poi sale in eccesso e per portare via queste sostanze nel sangue l'organismo usa il calcio. Il calcio esce dalle ossa, prende questi ioni acidi e il sodio e li elimina con le urine, solo che ci va dietro anche lui, quindi è uno spazzino che va dietro nel cassonetto. Quindi più alimenti, quindi carni, formaggi stagionati si mangia, più calcio si perde. Questo è importante, è vero, si mangia molti formaggi, eccetera, eccetera, e l'osteoporosi sta aumentando. Questo è importante. La diminuzione, l'aumento del fosforo da questi alimenti, proteine animali e la diminuzione del calcio crea una situazione di irritabilità e di aggressività. Quindi un'altra cosa si va ad aggiungere alle cose che abbiamo detto prima di tipo ormonale. Ecco, questi sono gli alimenti acidi, che li vediamo tutti qua, sono tutti alimenti o carni, o ecco qua il formaggio grana purtroppo è quello più acido di tutti, mentre gli alimenti basici sono tutti vegetali, della verdura, frutta, eccetera. Questo è un pH, ovviamente dei pH neutro 7. Ricordiamo che il nostro pH nel sangue è 7,4, quindi è neutro tendente al basico. Quando scende il pH, basta andare su 7,2, quindi calare da 7,4 a 7,2, l'organismo reagisce e quindi crea, perché c'è una situazione di emergenza. Ecco, il meccanismo non funziona, gli oli acidi, il calcio grazie al paratormone esce dall'osso, se li prende e poi li elimina con le urine. Ma ci va dietro anche lui. È una considerazione fatta dalla Harvard School of Public Health, dell'MIT di Massachusetts, l'Istituto Technology americano, che è uno dei più grossi centri dove si fa studi epidemiologici e prevenzione sulla stile di vita e l'alimentazione, dice che non vi è motivo di promuovere l'utilizzo di latte e latticini per la prevenzione dell'osso. Anzi, se si tolgono si sta meglio per l'osso e per tante altre cose. Lo zucchero, ci sono tanti lavori su questo, tanto zucchero, tanta irritabilità nel bambino, perché sottrae calcio, si perdono delle vetamine del gruppo B e quindi i bambini in particolare hanno una intolleranza di comportamento sia a sua fazione allo zucchero. Cioè ci sono delle tisane del commercio per bambini piccoli di un anno che hanno, io lo guardate con terrore, il 23% di zuccheri dentro. È una cosa allucinante, se pensate che la Coca Cola ce n'ha il 12%, pensate, infatti li rendono dipendenti, sono dei pusher chi fa questi prodotti e chi li prescrive anche, perché il bambino diventa matto, cioè per levarglieli devi cominciare a diluire, non gliele può levar di colpo perché è una specie di piccolo tossico, ecco, quindi devi diluirglielo queste tisane, queste cose, piano questi tè, eccetera, e poi piano piano si ritorna a una state di normalità. Quindi intolleranze al comportamento, ansia, sono molto ansiosi e depressi i nostri bambini, molto ansiosi e depressi, con dei test specifici in tutte le scuole si può benissimo dimostrare questo. E poi la competitività che è promossa, questi che giocano a calcio in queste squadrette, i genitori che si picchiano, picchiano i genitori, l'arbitro, scene apocalittiche, non si accetta la sconfitta, poi la deconcentrazione e gli sbalzi dell'umore che poi chi insegna a scuola lo sa benissimo. E stiamo arrivandoci alla conclusione, allora qua ci sono dei lavori che lo dimostrano, i bambini con un esagerato apporto di alimenti confezionati, hanno tutta una serie di sintomi emozionali rispetto ad altri. Quindi l'aumento del consumo di prodotti ad alta concentrazione di zucchero e una dieta, una qualità bassa della dieta, quindi senza frutta, senza verdura, eccetera, è associata con sintomi di alterazione emotiva nel bambino. Sono lavori del 2012, quindi recentissimi che lo riconferono. E qua lo stesso, insomma, qui spinge sugli omega 3. Gli omega 3 hanno un ruolo importante sul cervello, su altre cose, sul sistema immunitario, insomma, e sono probabilmente carenti. Poi, ecco qua, ecco la Coca Cola, ce n'è per tutti qua. Abbiamo il glucosio derivato dall'OGM e poi vedete quanti zollette di zucchero c'è in ognuna delle confezioni. Conclusioni. Che cosa possiamo dire? Che un'alimentazione vegetariana iniziata in gravidanza è in grado di influenza non solo la salute fisica ma anche quella psichica. Tanti problemi, tante tragedie che si vede non ci sarebbero se ci fosse un'alimentazione di tipo vegetariano. E poi, se si aggiunge a questo gli effetti positivi sulla salute e poi sull'ambiente, un ecologista in un recente congresso ha detto che siamo come effetto sul pianeta, siamo a livello di una guerra mondiale come disastro. Ci sono i morti, ci sono le bombe, le bombe d'acqua adesso, non ci sono le bombe d'acqua. Però l'erosione dei suoli, poi l'incuria italiana. Quindi tutto questo è legato ad una incuria e soprattutto anche all'eccessiva utilizzazione dei suoli per la produzione di cereali, per gli allieventi intensivi. Quindi, in conclusione, bisogna spingere perché tutti noi facciamo un piccolo passo verso un'alimentazione di tipo vegetariano, piccoli passi. L'alimentazione è basata sugli alimenti vegetali, poi ognuno si regola. Intanto facciamo quello, riduciamo gli alimenti animali, in particolare per i bambini e poi l'obiettivo finale è quello di sforzare un'alimentazione vegetariana, l'atto vegetariano e l'ultimo passaggio che è indotto dal nostro organismo. Noi abbiamo nel cervello antico l'istinto un centro che è stato documentato che ci dice se quell'alimento ti fa male o bene. Io per esempio ho tolto il pesce nella mia dieta quattro anni fa, in situazione di emergenza all'estero non si era niente da mangiare, si era un po' di pesce e stavo male. Dopo tre mesi un altro po' e stavo male. E allora ho capito il levato. Quindi noi abbiamo dei sensori efficaci, cerchiamo di accontentarli. Quando poi mangiamo male questi sensori si mettono in sonno e ci lasciano e ci abbandonano. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.